Tant'arte è la volta della carissima Deborah Taurisano, facciamone un applauso, poverina, domani. Grazie per aver accettato il nostro invito, è stata una bella serata, quindi anche con te adesso o noi sicuramente andremo avanti perché oggi sta andando, c'è tutto quello che stiamo vedendo, che stiamo ascoltando, che stiamo assistendo davvero, ne vale la pena e adesso è fatto dimenticare il titolo della valigia dell'emigrante. A te calmata, sarà appunto Deborah Taurisano. Non è grossa, non è pesante la valigia dell'emigrante, c'è un po' di terra nel mio villaggio per non restare solo un viaggio, un vestito, un pane, un frutto e questo è tutto. il cuore no, non l'ho portato, nella valigia non c'è entrato, troppa pena aveva a partire, oltre al mare non vuol dire, lui resta fedele come un cane a quella terra che non dà pane, un piccolo campo, proprio lassù, ma il treno corre e non si vede più. Deborah Taurisano Grazie per la tua partecipazione, per questo omaggio e approfitto di questo momento per